Musica Buonasera, benvenuti a Milano Favia News, questa è l'edizione estate e vediamo i titoli. Musica Bollette sempre più alte, il comune di Milano insieme ad A2A e Politecnico studiano una proposta per arrivare nel giro di una settimana delle soluzioni da adottare. Il caro energia colpisce anche le scuole, secondo una stima fatta da città metropolitana, gli aumenti in bolletta arrivano al 75 barra 100%. Un uomo di 58 anni è inciampato mentre stava passando sui binari in stazione a Voghera, travolto dal treno l'uomo è in condizioni gravissime. Arrestato a Malpensa in un insospettabile corriere della droga, l'uomo si fingeva disabile e trasportava la sostanza nascosta nella sua sedia a rotelle. Dopo il degrado e i bivacchi in Viale Matteotti a Favia, l'apice arriva con il rinvenimento di escrementi sui muri dei bagni pubblici sulla via più trafficata della città. Musica Il caro energia in apertura del nostro telegiornale per far fronte all'aumento dei prezzi delle bollette, il comune di Milano insieme ad A2A e il Politecnico stanno studiando delle soluzioni per far fronte a questa grave problematica per la città di Milano. Sentiamo. Milano è pronta ad intervenire per far fronte alla crisi energetica dell'ultimo periodo. Grazie infatti alla collaborazione tra A2A, il Politecnico e il Comune, la città sta lavorando ad una proposta fatta di nuove soluzioni che siano incisive e misurabili nel tempo per contrastare gli effetti del caro energia. Ad annunciare la nuova collaborazione è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha anticipato l'iniziativa che entro una settimana dovrebbe essere messa a punto. Stiamo costituendo un gruppo di lavoro tra A2A, il Politecnico e il Comune per arrivare nel giro di una settimana a una proposta di soluzioni da adattare. Perché Politecnico? Perché credo che il tema del risparmio energetico deve andare in pari passo con il tema degli orari della città, cioè quando si apre, quando si chiude, quando tutto funziona. Una settimana usciremo con le nostre regole che suppongo andranno a affiancarsi a delle regole che derivano a livello nazionale, un grado di meno, un'ora di meno, cose del genere. Per il sindaco Sala inoltre è necessario pensare al risparmio energetico, soprattutto negli uffici pubblici della città, cercando soluzioni che siano in grado di evitare gli sprechi. È chiaro che noi dobbiamo pensare anche molto ai nostri uffici, per esempio sui nostri uffici, al di là di quelli che hanno contatto diretto col pubblico, in questo momento immaginare che nel weekend siano ancora aperti, per esempio, proprio non va. Insomma, ci prendiamo una settimana per arrivare a delle azioni che possono essere incisive e misurabili. Inflazione alle stelle è proprio per questo uno dei risvolti di questi aumenti delle bollette, non riguardano soltanto appunto le bollette ma anche Trenord da ieri, dal primo settembre. Infatti c'è stato l'aumento dei biglietti e anche degli abbonamenti, ma a Pavia c'è qualcuno a cui questa cosa non va proprio giù. Sentiamo. L'aumento dei costi per i trasporti accende la polemica anche a Pavia. I rincari tra i 10 e i 30 centesimi, previsti per l'autunno, per il biglietto urbano, avevano scatenato la reazione del comitato Bus Pavia nei giorni scorsi. Non tanto verso l'Agenzia per il trasporto pubblico locale, protagonista dei rincari, quanto piuttosto nei confronti del comune di Pavia, colpevole di non essere intervenuto in alcun modo. Si sarebbero potuti mettere in campo strumenti compensativi per ridurre gli effetti di tali sconsiderati aumenti, secondo il comitato Bus, ma nulla è stato fatto dal comune. E sulla stessa lunghezza d'onda è anche il consigliere comunale del gruppo misto, Rodolfo Faldini, che ha ricordato come a Milano invece l'amministrazione sala si è intervenuta per bloccare i rincari previsti dalla legge regionale. Milano ci riesce, a Pavia cosa accade? Nulla. Abbiamo letto in queste ore dei rincari sul biglietto del bus, 30 centesimi a Pavia, nella non curanza, nel silenzio e nella indifferenza degli amministratori locali della città. E questa è una cosa per la quale chiedere conto la città, soprattutto le frange meno abbienti della popolazione, devono in qualche maniera interrogare i loro rappresentanti che siedono al mezzabarba e non si curano di queste situazioni che sono gravi. Aumenti sconsiderati se si pensa alle famiglie che annaspano tra rincari di ogni tipo, mentre a sindaco e giunta è stata raddoppiata l'indennità. In un momento in cui le famiglie degli italiani sono preoccupate ed in ansia per il caro Bollette e tutti i partiti si stanno adoperando per trovare soluzioni, cosa accade? Accade nel frattempo che le indennità di sindaco ed assessore, anche quelli di Pavia, sono aumentati, anzi raddoppiati. Cosa succede sul fronte dei trasporti? A Milano la giunta si adopera per bloccare i rincari. Il caro Energia colpisce anche le scuole. Secondo una stima fatta da città metropolitana, gli aumenti in bolletta per le scuole arrivano fino al 75 e a volte anche al 100%. Non solo bar, ristoranti e attività ricettive ai cittadini, il caro Energia colpisce drammaticamente anche le scuole. La stima fatta sulle 152 scuole superiori a carico di città metropolitana è infatti allarmante. Gli aumenti del costo di luce e gas provocheranno sulle bollette un incremento di quasi il doppio rispetto all'anno passato. Noi abbiamo l'anno scorso pagato bollette per un totale di 24 milioni di euro. di cui circa 10 milioni per il gas, 9 per l'elettricità e poi rimanenti per il teleriscaldamento e il gasolio. Quest'anno già nei primi mesi abbiamo avuto un aumento consideriore. Una proiezione per la fine dell'anno ci porta ad un aumento che va dal 75 al 100%, o addirittura di più, bisogna vedere i prossimi mesi commentare. Quindi una situazione drammatica che si innesta in una situazione di grave difficoltà rispetto alle risorse correnti di città metropolitana. E per far fronte all'emergenza c'è già chi sta discutendo della possibilità della cosiddetta settimana corta per le scuole superiori con gli istituti aperti solo 5 giorni su 7, eliminando così le lezioni del sabato. Non serve a niente, a parte che nella città metropolitana di Milano gran parte delle scuole hanno già fatto questa scelta. E poi la scelta della settimana lunga, della settimana corta, dell'organizzazione all'orario di lavoro è una scelta didattica, prevalentemente didattica, che è umandata alle scuole e alle famiglie. C'è l'autonomia scolastica. Non credo che di fronte ad una situazione di questo tipo con un aumento di circa il 100%, la soluzione proposta possa essere quella di una chiusura al sabato che potrebbe determinare qualche punto percentuale o qualche frazione di punto percentuale di risparmio energetico. Non è la strada giusta. Per il consigliere delegato dall'edilizia scolastica di città metropolitana Roberto Maviglia la strada giusta è dunque un'altra, da un lato lo stanziamento di risorse dello Stato, dall'altro un piano per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Nel medio-lungo periodo invece la soluzione è l'efficientamento energetico, cioè consumare meno, efficientare i nostri edifici e consumare meno. Su questo noi abbiamo fatto delle gare e stiamo partendo con interventi importanti che riguarderanno praticamente tutte le scuole di città metropolitana di Milano con interventi di efficientamento energetico che ci porteranno a un risparmio medio intorno al 35% di elettricità, di gas, metano. Questa è la strada che deve essere eseguita. Adesso passiamo alla cronaca. Un uomo di 58 anni è stato investito da un treno in stazione a Voghera questa mattina. Le sue condizioni sono gravissime, ma ricostruiamo tutta la vicenda nel servizio. Terribile incidente venerdì mattina all'interno della stazione ferroviaria di Voghera. Un uomo di 58 anni è stato investito da un convoglio. Sulla dinamica dell'accaduto sono attualmente in corso gli accertamenti della Polfer. La polizia ferroviaria, oltre al personale sanitario del 118, intervenuto con un'automedica e un'ambulanza, sono stati allertati. Nel frattempo anche i vigili del fuoco. Il drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 9 di venerdì mattina. Il 58enne, di cui non sono state rese note al momento le generalità, è stato subito soccorso e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale. Le sue condizioni sono gravissime. A seguito dell'incidente si sono registrati diversi ritardi sul traffico ferroviario dei treni regionali e degli intercity per permettere lo svolgimento degli accertamenti e dei rilievi effettuati dalle forze dell'ordine e dal personale di reti ferroviarie italiane. E' stato arrestato a Malpensa un insospettabile corriere della droga, si fingeva disabile e nascondeva la sostanza stupefacente all'interno della carrozzina da disabile. Trasportava oltre 13 kg di droga nascosti nella sedia a rotelle, ma grazie al fiuto di un cane antidroga all'aeroporto di Malpensa, l'uomo è stato arrestato e la sostanza sequestrata dalla Guardia di Finanza. Il passeggero di nazionalità spagnola, giunto a Malpensa su un volo proveniente dalla Repubblica Dominicana, era seduto su una sedia a rotelle elettrica, assistito dal personale aereoportuale all'ignaro di tutto, quando presso la sala arrivi gli si avvicina a un cane antidroga. Il fiuto del pastore tedesco Crai ha così attirato l'attenzione del militare cinofilo e, visti gli alti indici di rischio dovuti alla provenienza dell'aereo e per la relativa tratta già usata in passato dai narcotrafficanti, il passeggero, apparentemente affetto da disabilità, è stato sottoposto ad un approfondito controllo non solo dei bagagli al seguito, ma anche della stessa sedia a rotelle, nella quale hanno poi rinvenuto, occultati all'interno dell'imbottitore in pelle, 11 panetti di cocaina purissima per un totale di 13,350 kg. Alla scoperta del carico, il trafficante finto e invalido si è quindi alzato da solo, rivelando la messa in scena agli investigatori che l'hanno subito portato sulle proprie gambe presso il carcere di Busto Arsizio in stato di arresto. Adesso torniamo a parlarvi del caso di Alessia Pifferi, la madre della piccola Diana, la bambina che nello scorso luglio è morta a distenti nella sua abitazione dopo essere stata abbandonata dalla madre per sei giorni, ebbene sono emerse le chat della madre che in questo momento si trova in carcere e dalle chat si emerge che la madre non avesse cura della bambina, piuttosto la considerava un peso. Un peso, quasi un intralcio alla sua vita, un ostacolo ai suoi weekend lontano da casa, sono state depositate dagli investigatori della squadra mobile le chat estrapolate dal cellulare di Alessia Pifferi, la donna di 37 anni arrestata il 21 luglio scorso con l'accusa di aver lasciato morire distenti la figlia di Diana di quasi un anno e mezzo, abbandonandola da sola in un appartamento di Via Parea per sei giorni. Su quanto trovato nel telefono e nei profili della 37enne c'è il più stretto riservo, ma sembra che le parole della donna confermerebbero il quadro finora emerso, che testimonierebbe come la piccola Diana sia stata un peso per la madre che soffre, per dirla con le parole del GIP Fabrizio Felice, di una evidente instabilità affettiva recentemente manifestata in una forma di dipendenza psicologica dall'attuale compagno, che l'ha indotta ad anteporre la possibilità di mantenere una relazione con lui anche a costo di infliggere enormi sofferenze alla bambina. E infatti in quei sei giorni in cui la bimba è rimasta da sola in casa, la Pifferi, stando alle indagini, era proprio dal compagno in provincia di Bergamo, nella speranza di recuperare il rapporto con lui. Intanto lo stesso GIP ha rigettato la richiesta di accesso in carcere del professor Pietro Pietrini, ordinario di biochimica clinica e biologia molecolare clinica all'Università di Pisa, uno dei due docenti incaricati dalla difesa di redigere una consulenza neuroscientifica e psichiatrica su Alessia Pifferi, che per ora risponde di omicidio volontario aggravato. La decisione, che risale alle scorse settimane, è stata presa dal giudice in quanto non ha ravvisato allo stato delle indagini motivi validi per consentire colloqui, al di là di quelli con i legali, con persone esterne e medici, ai fini di una consulenza tecnica sullo stato di salute mentale della donna. Dopo il degrado e i bivacchi in Viale Matteotti a Pavia, l'apice arriva con il rinvenimento di escrementi sui muri dei bagni pubblici, proprio in Viale Matteotti, una delle vie più trafficate di Pavia. Vediamo. Una situazione degradante che perdura da più di un anno, ancora polemiche in Viale Matteotti a Pavia e ancora una volta sono i social network la cassa di risonanza degli sfoghi dei cittadini che frequentano la zona. I muri dei vecchi bagni pubblici imbrattati da escrementi umani. A distanza di ore dalla pubblicazione della fotografia da parte di un utente su Facebook siamo tornati in Viale Matteotti e come testimoniato dalle nostre immagini la situazione non è affatto cambiata. Di certo non un bel biglietto da visita per una delle strade maggiormente trafficate e a pochissimi passi dal centro storico del capoluogo. Ma come detto non si tratta del primo sfogo sul degrado e più in generale sull'insicurezza nella zona dell'allea di Viale Matteotti. Nei mesi scorsi un telespettatore aveva inviato alla nostra redazione fotografie e video in cui si testimoniava la continua presenza di persone poco raccomandabili sulle panchine che si trovano lungo l'allea. Degrado e bivacchi come ampiamente documentato dai residenti e dai commercianti della zona sono all'ordine del giorno e durano ormai da diversi anni. La richiesta è un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine e degli agenti della polizia locale. La presenza delle divise potrebbe infatti contribuire a ripristinare la legalità ed il decoro in questa zona della città. Partirà dopo la metà di settembre l'esternalizzazione della raccolta differenziata nei comuni di Stradella e Broni. Pochi giorni all'entrata in servizio della nuova ditta esterna di raccolta rifiuti notturna a Stradella e Broni dove attivo il porta a porta e a cui la Broni Stradella pubblica ha affidato un appalto da 3,6 milioni di euro e nonostante il percorso travagliato che ha portato a questo epilogo tra agitazioni sindacali e carenze nel servizio specie nel mese di agosto. In comune c'è un certo ottimismo che presto e quindi a partire dalla metà di settembre con l'avvio del nuovo servizio tutto si risolverà. Partirà dopo la metà di settembre l'esternalizzazione della raccolta dei rifiuti. Durante questo mese di agosto ci sono state comunque molte riunioni e contatti con la Broni Stradella e con la ditta che ha vinto l'appalto per la raccolta in questi giorni proprio hanno fatto le assunzioni, stanno facendo i corsi, stanno facendo tutti i tragitti della notte insieme agli operai attuali proprio per capire bene come deve essere fatta in maniera corretta e studiare i percorsi e pensiamo comunque che per la fine di settembre si possano vedere i primi risultati di un lavoro che è stato duro, che è durato tanto tempo ma che darà i suoi frutti. Adesso la politica è con noi il nostro direttore Stefano Calvi nel suo editoriale sulle elezioni politiche del settembre 2022. Buonasera, quanti di noi sotto l'ombrellone in questo agosto assolato e pazzerello, visto cosa ha combinato in giro, si sono domandati chi e cosa votare il prossimo 25 settembre perché desolati da un paese che vivrà il prossimo inverno uno dei suoi peggiori periodi. Prova a rispondere partendo da un altro punto di vista, ovvero cosa ci interessa? Ci interessa una politica che metta la persona al centro? Il vecchio slogan più società meno Stato è ancora attuale? Oppure che promuova la sussidiarietà, un'economia sociale di mercato? Lasci alla gente la libertà di intraprendere? Non soffochi tutto con la burocrazia e i sussidi? Che non vada al traino delle procure del giustizialismo imperante? Oppure che valorizzi semplicemente la famiglia? Ma se questo è il gigantesco mare del cosa vogliamo, resta il problema del chi votare. E non è un problema da poco, infatti alleggia sulla campagna elettorale la possibilità di un forte astensionismo indotto soprattutto da dibattiti tenuti nel periodo estivo, con i cittadini ovviamente distratti dalle vacanze. Ma quel che i sondaggisti rilevano è soprattutto l'indecisione dell'elettorato. Dai sondaggi emerge infatti un 30% di persone che hanno le idee ben chiare su una cosa, cioè andranno a votare, ma le idee ben confuse su chi votare. In sostanza non l'hanno ancora deciso. Saranno indubbiamente questi elettori a segnare le sorti del voto del 25 settembre. Grazie al nostro direttore. Adesso torniamo al nostro telegiornale. La mancanza di personale ha portato ad un accordo tra i comuni di Lardirago e Ceranova per condividere la figura del vigile urbano. L'Unione fa la forza, soprattutto quando si parla della gestione dei piccoli comuni della provincia di Pavia. Come già evidenziato nel recente passato, la capacità di assumere da parte degli enti locali è un problema non secondario che rischia di fermare o rallentare diversi servizi. Proprio per questo motivo le amministrazioni comunali di Lardirago e Ceranova hanno deciso di ricorrere ad una convenzione in forma sperimentale che garantirà la gestione in maniera associata del servizio di polizia locale. La collaborazione tra i due enti andrà avanti fino al prossimo 31 dicembre, visto che il comune di Lardirago, allo stato attuale, risulta senza persone idonee a svolgere questo tipo di servizio. Anche il comune di Marzano, come raccontato nei giorni scorsi, aveva deciso di ricorrere ad un tutor per formare il personale per questo delicato settore amministrativo. Lardirago in questo momento non è in grado di assumere, un limite che si ripercuote su diversi ambiti e in particolar modo sull'importante servizio di polizia locale. L'unica strada percorribile è dunque quella della convenzione con il vicino comune di Ceranova. In questo modo si potrà valutare la bontà dell'iniziativa che prevede l'utilizzo condiviso del servizio di polizia locale. Un agente verrà quindi prestato da Ceranova a Lardirago per 4 ore ogni settimana. La convenzione durerà inizialmente fino al prossimo 31 dicembre e costerà in totale 2.000 euro alle casse dell'amministrazione di Lardirago. L'amministrazione comunale di Corte Olona ha acquistato il terreno dove si costruirà la nuova caserma dei carabinieri. I lavori saranno pronti e si concluderanno entro la fine del 2023. Entro la fine del 2023 Corte Olona avrà una nuova caserma dei carabinieri. L'amministrazione comunale ha infatti acquistato il terreno su cui verrà realizzata la struttura che costerà circa 1,6 milioni di euro, fondi che arriveranno dal PNRR. Il costo dell'area acquistata dal comune, 3.000 metri quadrati a poca distanza dalla piscina di via Guado Castellara, si aggira sui 55.000 euro, soldi provenienti dall'avanzo di amministrazione. La costruzione della nuova caserma era uno dei punti del programma elettorale del sindaco Angelino Dossena che l'ha definita un'opera strategica per il paese e per tutto il territorio della bassa. In un primo momento il progetto prevedeva l'abbattimento della vecchia caserma e la sua ricostruzione, ma grazie ai fondi del PNRR si potrà realizzare una nuova struttura all'avanguardia e che rispetterà i requisiti di sostenibilità. Quella di Corteolona è tra le 10 nuove caserme che verranno costruite in Lombardia grazie alle risorse del PNRR. Dopo l'acquisto dell'area l'amministrazione dovrà ora lavorare velocemente per rispettare la data stabilita nel bando. Entro poco più di un anno gli uomini dell'arma avranno poi una nuova casa. In arrivo la terza edizione di Voghera Fotografia, quest'anno si renderà omaggio a Pierpaolo Pasolini. La terza edizione di Voghera Fotografia sarà un grande omaggio a Pierpaolo Pasolini in occasione del centenario della nascita del grande scrittore, poeta e cineasta. Il festival è stato presentato questa mattina presso Palazzo Gallini a Voghera e si terrà dal 10 al 25 settembre al Castello Visconteo in sinergia con la diciassettesima edizione di Milano Foto Festival. Abbiamo già allestito sette mostre con circa 200 immagini di sette autori, quindi sono praticamente la raccolta, chiamiamolo così, in assoluto di quello che può essere sul tema che abbiamo scelto quest'anno che è sulle orme di Pasolini percorsi popoli a cronaca. In poche parole si racconta intorno al tema pasoliniano quello che è stata la sua attività di cineasta, di poeta e di tutto quello che vogliamo, ma con altri autori che hanno diciamo interpretato il pensiero di Pasolini con delle mostre che possono essere appunto verificabili con facilità. Abbiamo tra l'altro Roberto Villa, Ivo Saglietti, Graziano Perotti, Daniele Vita, gli archivi Farabola con le immagini scelte da Archivi Farabola, Paola Rizzi e Beppe Bolchi, questi sono gli autori presenti. Poi a margine diciamo ovviamente di quello che è il cuore della mostra, tutta una serie di eventi che arrivano persino all'enogastronomia insomma. Sì, abbiamo la presentazione di cinque libri, tutti legati a questo argomento chiaramente del tema pasoliniano, anche inediti addirittura che usciranno proprio a settembre, abbiamo un workshop tenuto da Ivo Saglietti importante perché diciamo lo è lui come fotogiornalista, abbiamo un touch and try il 17 di settembre appunto alla quale partecipano aziende importanti del settore fotografico che presentano loro attrezzature, addirittura avremo una sala di posa allestita con delle modelle e avremo anche, sperando con i permessi, delle demo di droni all'interno del castello per poter dare la possibilità di conoscere qualcosa di diverso. Un evento all'insegna non potrebbe essere diversamente in parte del bianco e nero. Sì, bianco e nero perché Pierpaolo Pasolini amava a particolar modo il bianco e nero, infatti tanti dei suoi film lo sono in bianco e nero, abbiamo quindi chiesto agli autori delle mostre sì pertinenti col tema di Pasolini ma comunque in bianco e nero, quindi tranne una sono tutte bianco e nero. E con questo è tutto, io vi lascio le previsioni del meteo e vi ricordo l'appuntamento questa sera con il meglio della stagione e delle regole dello star bene con Cristina Colli. È tutto, vi auguro una buona serata. Grazie.